100 più chilometri alle spalle Quando la strada sale, non ti coltare, sai che ci sarò Buonasera, buonasera e benvenuti, nuovo numero di Bello Pedalare, settimanale dedicato al ciclismo Vi presento subito gli ospiti di questa sera, benvenuto Alessandro Spezialetti Alessandro benvenuto, buonasera Direttore sportivo di questa formazione svizzera che si chiama Roth Group Roth Group, poi ci spiegherai, noi avevamo già accennato questa tua nuova esperienza Una squadra professional, quindi insomma è anche di ottimo livello Poi ci dirai un po' sia le corse che avete fatto e anche quelle che intendete fare Benvenuto, bentornato ad Antonio Di Sante, buonasera Antonio Buonasera voi Reduce dal Baltic Tour Reduce da questo tour in Polonia Un tour che è andato abbastanza bene Sia per te individualmente che per tutta la squadra Grazie di essere intervenuto e grazie davvero di cuore a Pierpaolo Adesi Che è appena tornato dal Belgio per questa seconda prova di Coppa del Mondo del ciclismo paralimpico Grazie a voi per l'invito Nazionale, quindi insomma poi ci racconterai come sono andate le cose Posso anticipare che sono andate abbastanza bene tutto sommato C'è stata la Germania che ha fatto incetta di medaglie Però voi avete conquistato complessivamente credo 16 podi Sì Una cosa del genere Quindi oro, argento e anche bronzo Allora, cominciamo con la stretta cronaca Perché oggi c'era la diciassettesima C'è stata la diciassettesima tappa del Giro d'Italia Io mi rivolgo a un esperto Quanti giri hai fatto da corridore Alessandro? Beh diciamo come abruzzese credo di averlo fatto più di tutti Con 14 partecipazioni 14 partecipazioni però Queste sono proprio le immagini relativa a questa tappa Una tappa completamente pianeggiante Si arrivava a Cassano d'Adda dopo circa 196 km In pratica non c'è stata la volata Perché c'è stato Pozzato che ha provato Ma diciamo che è stato un arrivo un po' C'è stato questo tedesco Kluge che ha beffato Che ha beffato il nostro, diciamo, sia Nizzolo Travalini che Pozzato Gli ultimi 200 metri E anche Modulo insomma che erano i vari velocisti Ecco, è un fatto strano, una singolare Che insomma finora gli altri due tedeschi Kittel e Krepel si erano aggiudicati tutti i traguardi veloci Un altro tedesco che certo non era però pronosticabile Beh sicuramente non era Quindi insomma proprio gli italiani niente Purtroppo di solo e Modulo dovranno aspettare al massimo domani O domenica a Torino ecco Domenica a Torino si concluderà il giro d'Italia Poi ci saranno altre due tappe Venerdì e sabato molto ma molto impegnative D'alta montagna ci sarà la cima Coppi Con l'agnello, il collo dell'agnello Poi ci sarà anche il tappone alpino sabato Insomma è ancora tutto da decifrare Questo giro anche se va detto che l'olandese Da un nome impronunciabile Cruiswick Cruiswick ha un buon margine no? Il secondo è Chavez Il colombiano tre minuti Tre minuti e Valverde Valverde che ha vinto proprio ieri la sua prima tappa Beh la prima partecipazione Esatto la prima partecipazione Prima tappa al giro d'Italia Poi Nibali è un po' troppo indietro Obiettivamente quattro minuti e quarantatré Da recuperare le montagne Ma credo che sia una cosa abbastanza Abbastanza impossibile per Vincenzo Cioè da italiano lo spero Però credo che al massimo Valverde può riuscire Tra Valverde e Chavez Chavez è comunque uno scaratore colombiano Potrebbe insidiare l'olandese Se non ha qualche giornata come ieri Qualora dovesse vincere questo olandese Sarebbe la prima volta in assoluto Che un olandese vince il giro d'Italia Corsa Rosa Quindi anche questo è un tabù sfatato Prima o poi c'è sempre Come dice il detto C'è sempre la prima volta Beh questo qua Sicuramente per vincere un giro d'Italia Non è arrivato oggi È già un corridore che si è piazzato Però è una sorpresa Non era tra i papalbi Tutti si aspettano sempre i grandi nomi Però questo ragazzo Come parlavo prima con Enrico All'altra parte dello studio L'anno scorso Se non aveva qualche problema In una delle ultime tappe Era lì con Contatore A giocarsi il giro D'Italia È arrivato già una volta Settimo Un nono posto Le qualità ci sono Quindicesimo posto Al Tour de France Quindi non è una Sicuramente una sorpresa Però una sorpresa Lì lì Ecco Non è proprio una Grazie per il momento Alessandro Antonio Ovviamente tu il giro d'Italia L'hai seguito un po' Come un po' tutti noi Dal video Dai giornali Dai giornali Anche dal video Perché hai corso Questa Erano sei tappe Se non ricordo male Sei tappe Più un prologo Più un prologo Ecco intanto un'idea Su questo giro d'Italia Tu sei d'accordo Che il ritardo Di Nibali Dello squalo Sia un po' troppo Difficile da colmare Sì è un ritardo difficile Anche perché Negli ultimi giorni L'abbiamo visto Sempre in difficoltà Sulle salite Soprattutto sì Sì Però Nel ciclismo Non è mai detta l'ultima Può essere Che una giornata Storta degli avversari Può facilitare A Nibali Il recupero Senti Come giovane Per te È un sogno Rimane un sogno La partecipazione Al giro d'Italia Sì sì Indubbiamente Il sogno più grande È anche quello Di vincere una tappa A proposito di sogno È di vincere una tappa Chi lo ha già realizzato È il tuo caro amico Giulio Ciccone Con la Bardiani Sì Giulio Ha compiuto un'impresa Straordinaria Neoprofessionista Sono stato molto felice A vedere la sua impresa Anche se ero in Polonia Però Quel giorno ho visto la tappa E sono rimasto davvero felice Ecco qui Stiamo rivedendo Proprio la tappa Di Sestola Ha vinto Con un'azione Insomma Ha vinto di Solitaria Eccolo qui Con una grande prova di forza Una grandissima prova di forza Unica a tutti Sese presente È onorato anche l'Abruzzo Perfetto Tra l'altro mi dicevi Che con lui Hai Diciamo Hai corso nelle giovanili Quindi la carriera È stata panorlena Poi ci siamo un po' persi Nel dilettandismo Perché lui è andato al nord Quindi ci incontravamo Qualche volta Però Non come prima Cioè prima lui Correva nell'Euro 90 Io con Parmettano L'Euro 90 Del grande Bruno Profeta Grandissimo Scopritore di talenti Quindi Niente Niente La fine ogni tanto Ci becchiamo a qualche corsa L'ultima corsa Che ci siamo beccati È stato Il costo degli Etruschi In Italia Ci siamo salutati Niente Ecco ti aspettavi Questa crescita Esponenziale Di Giulio Insomma Cioè Già negli ultimi anni Nelle categorie Cioè da under 23 Ha fatto vedere Che va del talento Che va della classe Adesso ha fatto Un buon salto di qualità E l'ha dimostrato Qui al giro Anche nelle prime Corse da prof È già Il corso degli Etruschi Se non sbaglio Quarto o quinto Già lì Ha dimostrato Di avere talento Perfetto Pierpaolo Anche tu sei felice Credo Come del resto Anche Alessandro Di questo Bellesplati Giulio Probabilmente Non so se Avete mai corso insieme Vi siete allenati insieme In Abruzzo Qualche allenamento Poi lo conosco anche Perché Lo seguivo da ragazzino Vedevi uno scriccioletto Piccolino Io ricordo lui Quando era giovanissimo Anche le prime categorie Anche esordiente Era molto Molto minuto Rispetto agli altri Però È cresciuto E secondo me È stato anche Io qualche anno fa Gli avevo chiesto appunto Cosa Mi ha detto Guarda io sinceramente Se è riuscito ad andare avanti Ok se no Prenderò la strada E andare a lavorare Perché comunque Era molto Era titubante Però probabilmente C'è anche Un'età in cui Bisogna anche fare una scelta In qualche modo Ma più che titubante Era Non era un dramma Il problema Non c'era Se dice Io se lo vive In maniera tranquilla E comunque niente È stato molto bravo Ci ha creduto molto Probabilmente Per arrivare dove è arrivato Si è anche impegnato tanto Comunque è stato anche fuori In squadre al nord Quindi Questo forse L'hanno fatto maturare ulteriormente In qualche modo Con squadre Magari Dove Parteciparà A delle corse Anche molto Molto impegnative Poi al primo anno Come ha detto anche Cioè Le prime gare Già si è fatto vedere Quindi Avrà ancora tanta strada Secondo me davanti Anche tu Alessandro Hai un ricordo di questo Corridore Anche se Chiaramente L'età è un po' diversa No però Io l'ho conosciuto bene Diciamo Parte delle prime gare Poi soprattutto Al Giro di Malesi Siamo stati Più di due settimane Insieme Lì ho avuto modo Di conoscerlo E ho parlato Parecchie volte con lui È una sorpresa Questa sua affermazione Sicuramente Non è facile Vincere una tappa Al Giro d'Italia Però per quello che ha dimostrato Nelle gare precedenti Devo dire che Mi ha sorpreso Però E ora forse arriva al difficile Per lui Nel senso che Sicuramente di confermarsi Ora È sempre più difficile Difatti adesso Qualche gara Quando lo vedrò Devo fare due chiacchiere Due chiacchiere Come dire No dai Io anche prima Di partire in Giro d'Italia L'avevo detto Che era Che Giulio era una scommessa L'ho conosciuto E mi piace tanto Questo ragazzo Spero un giorno Di averlo In squadra con me Perché no Ma in Svizzera Pari della Svizzera Della squadra tua Ma non parlo Non dico nulla Ah quindi già Sei proiettato all'anno prossimo Tra due anni In qualche modo Io Ma questa esperienza In Svizzera Visto che ci siamo Solo per un anno Sarà Già sai Oppure Potrebbe essere prolungata Potrà essere prolungata Potrà interrompersi A fine anno Io con la squadra Ho un contratto A tempo indeterminato Perché in Svizzera Ci sono dei contratti Abbastanza diversi Che in Italia Sono più seri Questo In qualche modo Più seri no Però tra parentesi È un po' diversa La concezione Stiamo vedendo Ecco Questo signore chi è Perché stiamo vedendo Dalle immagini Che abbiamo scaricato Da YouTube Della tua squadra Questo è Loop È un altro Direttore sportivo Esperto Come si chiama? Loop Loop Gian Jack Loop Si chiama Oltre a lui C'è Denis Sanding E Uwe Pesce Siamo in quattro Quattro direttori Quattro direttori Queste sono le immagini Un po' Dell'ultimo giro Di Romandia Beh siamo una squadra Professional Con 23 Corridori Ovviamente corriamo L'ultima corsa che avete fatto Giro di Norvegia Giro di Norvegia Quindi Pochi giorni fa Credo verso metà Domenica È terminata domenica Buoni risultati Discreti? Buoni? Ma ha avuto qualche risultatino Martin Kohler Lo svizzero Oggi ragazzi Sono partiti In Ucraina In Ucraina Poi chiaramente Ci sarà il momento Cru Il giro di Svizzera No per voi Sì Dall'11 Il 19 giugno Avremo La fortuna Il piacere Di essere Al giro di Svizzera Speriamo Di raccogliere Risultati Qualche bel risultato Soprattutto per il nostro Sponsor Senti Ma voglio ricordare Previamente Come è avvenuto Questo incontro Svizzero Per te Personalmente Ma come è avvenuto È avvenuto Come C'è stato Delle conoscenze Ci sono state E da lì Pian piano Pian piano Siamo arrivati a Anche per i direttori sportivi Come magari per i corridori C'è una sorta di Ciclomercato Ma sicuramente Come Qui non si può stare fermi Poi sono stato sempre Una persona Ragazzo ambizioso Quindi sia da corridore E lo voglio essere Anche da direttore Mi ha stuzzicato l'idea E pian piano Ho portato a termine La mia scelta Perfetto Grazie Alessandro Perché insomma Si è stato molto Molto chiaro Hai idee Anche molto molto chiare Ma è giusto Che sia così Torno da Pierpaolo Perché prima parlavamo Di mondo giovanile No abbiamo Ci siamo agganciati All'espolare di Giulio Ciccone Qualche settimana fa Lo voglio ricordare Perché Insomma La categoria Degli esordienti È una categoria Molto delicata C'è stata una bella gara Che hai organizzato Tu a Bagnaturo Vicino Sulmona Una gara che È andata molto bene Proprio sotto il profilo numerico Siete stati anche un po' Forse Fortunati Per il fatto Che c'erano In quel periodo Poche gare Tra Abruzzo Molise Anche le altre regioni Limitrofe Forse il tempo Vi ha guastato qualcosa Però numericamente Sono arrivati quanti ragazzi Esordienti Guarda C'erano 161 iscritti E credo Tantissimo Un po' più Qualcosa più di 150 partenti Quindi due batterie Molto Grande successo Molto importante Sì sono stato fortunato Perché Evidentemente Era una domenica Dove non c'erano gare Nelle regioni limitrofe Perché sono Sono arrivati dalla Puglia Dalla Campagna Lazio Umbria Marche Quindi Credo che c'era anche Una squadra toscana Quindi comunque Ha avuto un certo risalto Questa cosa Naturalmente Per chi organizza È molto Molto bella Perché comunque Poi ripeto La categoria Esordienti È una categoria Insomma delicata Ci sono poche gare Lo possiamo dire Sia in Abruzzo Ma in genere Anche in tutta Italia E poi Insomma far spostare Ragazzi Di unità così giovane Non è nemmeno semplice Non è semplice Però Ha avuto veramente successo E spero appunto Che questa manifestazione Possa crescere Non so se Era la prima edizione No è la seconda Seconda edizione Però Rispetto allo scorso anno Quasi il doppio di partecipanti Quindi Ci hanno avuto Una bella Una bella crescita Un po' Un po' a fortuna Però È stato un successo Per caso Vedete il tempo Perché la prima I sorgenti primo anno La pioggia non l'hanno presa Ma quel del secondo anno C'era la tormenta Quindi questa è una doppia veste Di corridore organizzatore Perché ricordiamo Che comunque tu Oltre che Organizzare Queste queste corse È anche organizzato Per esempio Lo stage Della nazionale paralimpica Che è arrivato qui in Abruzzo Francavilla al mare Magari insieme ad altre Ad altre persone Sicuramente Non voglio dire Una cosa importante Voglio sottolineare Il lavoro è di squadra La gara di Bagnaturo C'è stato Fernando Ranalli Che ha fatto Il presidente provinciale Come no? Il nostro lavoro Quindi anche altri collaboratori Che adesso Non ricordo neanche i nuovi Fede ciclismo provinciale Dell'Aquila Un po' la mia squadra Comunque ha contribuito molto Anche per la manifestazione A Francavilla Però ripeto Io faccio una Ricopro una veste Un po' Diciamo secondaria Mi piace questa cosa Perché Oltre a gareggiare A core Comunque organizzare Queste manifestazioni Per i ragazzi Mi dà molto stimolo È proprio bello vedere Però ripeto Io Mi piace anche organizzare Manifestazioni amatoriali Cioè A me piace Il ciclismo Mi piace un po' tutto Bisogna dare a ognuno La giusta importanza E il giusto impegno Ecco Tra pochissimo Andremo in prima Pausa pubblicitaria Mi rivolgo al nostro Regista Dino D'Angelo Un'ultima domanda E poi andremo in pausa Pierpaolo Incomincivi ad accennare Come sono andate le cose In Belgio Quando sei tornato intanto? Sono tornato Ieri notte Ieri notte Quindi insomma Sei ancora un po' Forse Trastornato in qualche modo Io soffro il freddo Perché comunque Quindi è stato Avete trovato freddo? Sì Freddo Pioggia Cioè Sinceramente Sono stati otto giorni Abbastanza Non mi aspettavo Queste temperature In questo periodo Però È stata Cioè Io lo detesto Il freddo Quindi non è stato facile Corre Raffrontare quelle Le strade Sinceramente Pure con Con la pioggia Non è il massimo Nel massimo Per uno che guida Con due mani Ma quindi Figuriamoci Con uno che guida Con una Che cosa può essere Però E qui diciamo 16 voti 4 medaglie d'oro 5 d'argento E 7 di bronzo Questo è il bottino Comunque un bottino Più che discreto Buono Sì C'è stato anche un po' Di sfortuna Perché qualche Uno È andata male Ci sono state forature Anche qualche defezione Magari Proprio nella nazionale Nel team Del commissario tecnico Valentini No E diciamo Eravate Eravate diciamo I più forti Schierati Diciamo che mancava Podestà Dove erano sicure Altre due medaglie Ebbè Comunque Perché non Per questione di salute Ci siamo difesi Possiamo anche dire Che non siamo andati Lì Nella condizione Migliore Migliore Perché comunque L'appuntamento È a settembre Adesso Rimane C'è la fase Di Rio C'è la fase Appunto Di stallo Però Ecco Ci siamo comunque difesi E non è facile C'è per noi Soprattutto Credo Che correre Con quelle Temperature Con quel tempo Così C'è Io perlomeno Non siamo abituati Un'altra cosa Sicuramente Sì Speriamo Con il caldo Ti esalti Poi parleremo Anche di come sono andate Le tue prove Tu fai prova Sia in linea Che a cronometro Quindi poi ne parleremo Allora Prima breve passo pubblicitaria La linea torna in regia A Dino D'Angelo Rimanete con noi Perché tra poco Parleremo di nuovo Con i nostri ospiti Di ciclismo Bene Di nuovo Con Bello pedalare Il settimanale Dedicato al ciclismo Torno da Alessandro Spezialetti Per farci raccontare Ancora meglio E di più Questa sua esperienza Come direttore sportivo In questo team Svizzero Team Professional Quindi un team Che deve essere eseguito Con una certa costanza Siete quattro direttori sportivi Quindi insomma Sì Abbiamo Come dicevo prima Abbiamo quattro direttori Siamo quattro direttori Sportivi Sei massaggiatori Cinque meccanici Tu gli altri tre Li avevi già trovati Lì Sei l'ultimo arrivato In casa Svizzera Lì sono stato il primo Perché c'è stata una rivoluzione Ah c'è stata una rivoluzione Tutti nuovi C'è stata una piccola rivoluzione Che l'anno scorso Questa era Anche a livello di organico? Sì È stata una squadra continental Che ha fatto il salto Il salto di qualità Nelle professional Diciamo Ha dato un cambiamento All'interno del team Che dire Finora insomma Perché poi Chiaramente Non è che si fa tutto In funzione dei risultati Però ovviamente Ma guarda Come risultati Anche Se non abbiamo vinto Perché sicuramente Non facciamo gare Gare Come posso dire Non dico dilettantismo Però Noi facciamo gare Con squadre world tour E difficilmente Con squadre continental 2.2 1.2 E ovviamente Ci vogliono I corridori Per fare risultati In queste Come il giro di Svizzera Un giro di Romandia Dove trovi 18 squadre world tour Con tutti I campioni che hanno Sicuramente Noi siamo lì Non dico da comparsa Però Cerchiamo di Fare del nostro meglio Abbiamo Corridori Giovani In gamba Abbiamo qualche Buon corridore Come Page Parecchie volte Dietro i vari Greti Ce ne sono 8 Di italiani Uno anche Abruzzese Che conoscono In tanti Come Marco Durbano E poi ho altri Corridori I vari Pasqualon Check-in Tomei Buoni corridori Diciamo Ecco Non sono campioni Però Adesso Mi dicevi Che state Preparando Il prossimo appuntamento Io andrò a fare Una gara In Buc de la Mayenne In Francia Una gara 2.1 Una gara Tapp Di 4 tappe Dopo di questo Torneremo in Svizzera Dove ci sarà Un mini Ritiro Con la squadra Per gli 8 Corridori Che faranno Il giro di Svizzera Che per Il nostro sponsor Diciamo Un tipo Un giro di taglia Urbano Potrebbe essere Uno degli 8 È troppo No Urbano Non fa parte Non fa parte No Urbano Ha già il suo programma Appena guarito Da una Bronchite Quindi adesso Oggi è partito Per una Tre giorni In Ucraina Tornerà Farà una gara In Spagna Non farà Il campionato Italiano Poi Farà tutto Il altro calendario Verrà con me In Al Queen Guy Lake In Cina E Arriverà fino alla fine Ecco Senza Senza problemi Fatto un anno Di esperienze Una squadra straniera Dove Sicuramente Lo aiuta A crescere Come abbiamo visto Per Ciccone Che si parlava prima Dall'Abruzzo Si è dovuto trasferire Al nord E lì Come Durbano Si è trasferito Dall'Abruzzo In Svizzera Sta apprendendo Una nuova lingua Nuove Conoscenze Quindi Sicuramente Si farà vedere Perfetto Antonio Antonio Di Sante Prima accennava Ha fatto Specialetti Che questo team Ha fatto il salto Di qualità Da Continental Professional L'anno prossimo Credo che toccherà A voi Come GM Robovini Almeno Questa è L'ambizione E il proposito Del Patron Domani Infatti Come ci diceva Il presidente Qualche giorno fa Si terrà Una riunione Tra lui Il padrone Il padrone di Erci E il team manager Roberto Damiani Quindi una riunione Molto importante Dove parleranno Appunto Di questo progetto Professional Il 2017 Quindi insomma Un'ulteriore fase Di crescita Del vostro team Questo secondo me È anche una cosa Molto buona Sia per l'Abruzzo Che per noi Corridori Perché Ci dà uno stimolo In più Per questo finale Di stagione Per avere una Riconferma Nel prossimo Certo Ecco Torniamo a parlare Della corsa polacca Dove Dicevo Tu dal punto di vista Proprio tuo personale Sei stato Anche uno dei protagonisti Ma tutto Il team È stato protagonista Perché avete Piazzato Diversi uomini Sui podi No Sui vari podi Nelle Partire da Pippo Fortini Nel Teatro In acchiardo In tutte le tappe Abbiamo entrato La top ten Sia con Pacchiardo Con Fortin Nella crono scalata Con lo spagnolo Iosa Marquez Poi Anche Siamo stati In tre fughe Sia nelle prime due In particolare Tu sei stato Proteggoste Di una fuga L'ultima Con il russo Andrei Salteno Poi Niente Quindi Alla fine È stato un giro Un tour Un tour Bar Tick tour Che alla fine Possiamo Tirando le somme Sono state somme positive Per la squadra Ci è mancata la vittoria Però Il lavoro Alla fine Ci ha ripagato Vittoria che quest'anno Per il vostro team Grazie alle volate Di Pippo Fortin Ne avete 22 Due vittorie Già avete Diciamo Uguagliato Le vittorie Dello scorso anno Credono Pure due vittorie Dello scorso Tra l'altro invece Tornando sempre In Polonia Giro Del Baltico Del Baltic Tour Avete chiuso La speciale classifica A squadre Al terzo posto Quindi sommando I vari Poi Se non sbaglio La CCC Squadra professional Seconda L'Active Jet Verbo Sempre squadra professional Quindi anche questa È un'ottima cosa Per voi In pratica Il primo team Continental Nella corsa Di questa corsa Insomma Complimenti Complimenti Grazie A livello invece Individuale C'è da registrare Nella classifica generale L'ottavo posto Credo Di Pacchiardo Sì Quindi È contento Sono contento Sicuramente D'accordo Grazie Pierpaolo Allora Torno da te Perché intanto Ci sono anche Delle immagini Delle fotografie Da Da vedere Tra pochissimo Le vedrete Di questa Prova di Coppa del Mondo La seconda Ce ne sarà un'altra Tra breve Sì Ce ne sarà una in Spagna Ma non credo Che parteciperemo Perché comunque È troppo vicina Ecco Questa è un'immagine Proprio Troppo vicina Diciamo Stai alla testa Del gruppetto Sì Questa è la fase iniziale Che c'era un po' C'era un percorso Abbastanza particolare Perché era diviso In due Una parte Era proprio In mezzo Piste ciclabili Case Quindi era abbastanza Tecnico Allora Naturalmente Prevenire È meglio che curare Conviene stare davanti Perché Certo Sono caduti Veramente tanti E quindi Quella prova Di Coppa del Mondo Non la faremo In Spagna È sicuro Da programma Non c'è Ci saranno I diversi ritiri Per quanto riguarda Per la preparazione Delle paralimpiadi Ma a livello di gare Non so se Si faranno I campioni italiani Quest'anno Perché Allo stato attuale Ancora oggi Non è in calendario Quindi Non è in calendario Non si sa E però Dicevi che c'è Questo appuntamento Importante Per voi A settembre Per voi Anche per tutto Il movimento Di Rio No? Diciamo L'anno L'anno Ecco Citi Valentini Ha in mente Giava una sua nazionale Chiaramente tu Hai Sicuramente Hai voglia Di far parte Di questa nazionale Sicuramente Si Adesso Nessuno è sicuro O tutti siete sicuri Bisogna ancora fare delle scelte Nessuno è sicuro Ma più o meno Sappiamo Qual è la rosa La sappiamo Perché comunque Tra noi parliamo Ti sbilanci Tutti te Ti vuoi sbilanciare Ah vabbè Io finché non vedrò il nome Non mi sbilancia Però comunque Credo che il volo Lo prenderò Quindi Eh vabbè Allora Ti sei sbilanciato In qualche modo Ricordiamo un po' Le medaglie Perché tra l'altro Nel gruppo Il gruppo azzurro Ci sono anche altri Abruzzesi No? Ci sono I due Il nuovo tandem Con Pizzi Fantini Pizzi Fantini Che è andato anche a medaglia Sì Hanno fatto Sinceramente Hanno fatto un numero Perché Sì Hanno rotto una ruota Dopo 50 metri Alla partenza Hanno preso un tombino Proprio sfortunatissimi Quindi hanno fatto Quattro giri Ad inseguire Perché giustamente E taglia di bronzo Sì Quando si sono accorti Che avevano avuto un problema E se erano staccati subito Davanti c'è stato subito L'attacco Proprio per non fargli rientrare Certo Quindi hanno Inseguito per Quattro giri Significa circa 32-33 km Sono rientrati Hanno ripreso un po' fiato Purtroppo due Già erano andati via Due tandem E poi niente Nella volata Hanno preso Hanno afferrato il terzo posto Terzo posto Le tue gare come sono andate Che sensazioni hai avuto Non sei andato sul podio Però insomma Questo non significa nulla Quest'anno A difenza l'anno scorso Niente podio Anche se l'anno scorso Corso a maniaco E c'era un caldo Spettacolare Per te si Quindi niente C'è fatto tanta differenza Il freddo io Non lo sopporto E qui c'era anche Un percorso molto tecnico Che comunque faceva Fa differenza La mia categoria È una categoria Che con gli anni Si è modificata proprio Ho visto dei cambiamenti Ormai sono Dal 2005-2006 Che ho cominciato Abbiamo toccato Stiamo toccando proprio Il limite Perché è una categoria È l'ultima categoria Del paraciclismo Per quanto riguarda Le biciclette E quindi a volte È anche indecifrabile Il problema Che può avere l'avversario Ecco ricordiamo Prova in linea La tua Hai fatto anche Una cronometro Si ho fatto una crono Il venerdì Una crono di 26 km Dove ho fatto settimo Il tempo non è male Perché comunque Considerando che si faceva Il nostro circuito Della strada Quindi Se è un percorso tecnico Un po' Mi ha limitato E decimo Nella prova Nella prova su strada Un lavoro un po' Per il mio compagno Che ha fatto terzo Ecco dicevamo Che in questa prova Di Coppa del Mondo In Belgio In particolare La formazione tedesca Ha fatto incetta di medaglie Sarà anche Questa formazione Quella da Da tenere d'occhio Da tenere d'occhio A Rio O ce ne sono altre Ma per quanto mi riguarda Per quanto riguarda La mia categoria No Per quanto riguarda La mia categoria La nazione Secondo me È proprio Più forte L'Australia 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 Degli elementi Che corrono I mezzi professionisti Quindi Qui c'è un ragazzo Che non mi ricordo All'inizio stagione In un giro a tappe Ha fatto ottavo Una tappa vinta Da Froome E l'ha messo alle spalle Damiano Cuneco Quindi Ecco perché ho detto Stiamo toccando Veramente C'è La disabilità Sta andando Veramente a scomparire Quindi niente Gli avversari Più temibili Sono lui C'è un ucraino Molto forte Però Un percorso del genere Ecco Due parole sul percorso Lo avete già visto Visionato Sicuramente Il settore tecnico Sarà già andato A fare un sopralluogo Credo a Rio Sì Andato il tecnico Con i collaboratori Hanno visto Il percorso Molto duro Perché è comunque Un percorso dove C'è un dislivello notevole Considerando il circuito E quindi Niente Ci sarà veramente Da battagliare in salita Perché comunque Si parla di un Di un dislivello totale Di circa 1900 metri Su 90 chilometri Quindi Pier parla Adesso la tua forma Chiaramente non è al massimo Non può essere Perché gradualmente Deve arrivare Per il mese di settembre Giusto? Ma io quest'anno È stato il primo anno Che mi sono Prefissato Che comunque Fino a maggio Dovevo andare In relax Perché comunque Ogni volta Arrivo aprile Maggio Che sono i mesi dove 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 vado più forte Quest'anno però L'appuntamento è a settembre Quindi era inutile Poi è logico Che comunque C'era ancora Da dimostrare qualcosa Magari qualche rischio L'ho corso pure Perché Non andando proprio Quando uno stia al 100% È normale che la resa Non è ottima Però Ho cercato niente Di Traccheggiare Proprio perché Comunque So cosa significa Cioè perlomeno A me Non sono mai riuscito In una stagione A avere più di un picco di forma Perfetto Grazie Pierpaolo Torno da Alessandro Perché prima Pierpaolo ha fatto Un nome Damiano Cunego È quello che Ho potuto interpretare Torniamo sul Giro d'Italia Perché Non l'abbiamo detto Ma insomma Damiano Cunego Per la Vini Fantini Nippo Sta facendo Un'ottima Un ottimo Un ottimo Giro d'Italia Che ha la Maglia Azzurra Il leader della Maglia Azzurra E probabilmente Anche se ci saranno ancora I due tapponi No Venerdì e sabato Potrebbe tenerla fino in fondo Insomma Sarebbe qualcosa Io credo che Non avrà Grosse difficoltà Damiano È esperto Ha vinto già un Giro d'Italia Ha vinto tre Lombardia Ha vinto tante gare Quindi Non gli fa paura Fare ancora Quattro GPM La ciliegina potrebbe essere Proprio magari Piazzare Un acuto In queste ultime tappe Ma sai quando Non è facile Quando si è dall'altra parte Dello schermo Tutti parlano Con facilità Sicuramente Soprattutto Tutti i giornalisti Soprattutto i giornalisti Ecco Ma non solo i giornalisti Però Anche qualche ex collega Che magari adesso commenta Adesso commento Anche in ammiraglia A tutti che parlano Bisogna ricordarsi Che quando sei in bicicletta È tutta un'altra Un'altra musica Io vedo anche i miei ragazzi Non è facile Cerchiamo di Di far capire dove possono sbagliare Però Non è Ripeto Non è facile Ma ti manca un po' la bicicletta Anche se adesso Ti sei calato perfettamente In questo nuovo ruolo Di direttore sportivo Oramai sono tre anni Che mi sono Ecco Come dici te Sono calato nel A fare direttore sportivo Sono contento Pian piano Cerco sempre Che cosa cambia Da corridore A parte la fatica Ovviamente Cosa cambia In macchina Eh beh Ci sono C'è una fatica mentale Una fatica mentale Non sei te A fare A prendere Sì Decisioni al momento Puoi essere Visto che Tutte le gare che noi facciamo Abbiamo la fortuna Da quest'anno Di avere le radioline Quindi bene o male Riesci ad avere un contatto Con il corridore Senza radioline O adesso Ma io preferisco Con le radioline Con le radioline Sì Ma non per comandare i ragazzi Che alla fin fine Il vero corridore Il vero capitano Prende da solo le decisioni Non può aspettare L'ammiraglia Perché l'ammiraglia Non può vedere tutto Magari Soprattutto In certe tappe Dei tempi Certo Tante volte ci sono Dei problemi in gara Possono esserci Dei cambiamenti Di percorso La radiolina Secondo me È la cosa migliore Da avere Per i corridori Anche come sicurezza Oltre al casco Ovviamente Quindi Ma sicuramente Come dicevo prima Anche per Lavinifantini Non è poco Riuscire ad arrivare a Torino Con la maglia azzurra Me lo auguro Soprattutto Sia per Valentino Per i rosci Come Nippo Per Cristiano De Rosa Sono tutti amici Persona che conosci benissimo Conosco benissimo Speriamo che Damiano Riesca ad arrivare a Torino Con questa benedetta Maglia azzurra Soprattutto anche Per il grande Monzon Tra parentesi Stefano Giuliani Che lì sicuramente Lotterà Sarà Ad incitare Damiano Come tutti gli altri Corridori Della Insomma Ti piacerebbe Sì È l'emissione più grande Infatti Speriamo che Se il prossimo anno Prima cosa Ma importo Questo progetto Professionale Che c'è in mente Poi Dopo questo Se abbiamo anche l'invito Io sarò Ricompermato Poi il sistema Degli inviti È difficilissimo Perché sono solo 4 La speranza Sendo l'ultimo A morire Essendo 18 Formazioni Pro Tour Che sono invitate Di diritto Ci sono altri 4 Wildcard Wildcard Una già assegnata Quindi sono 3 Sono 3 Quindi insomma Come dicevo La speranza È sempre l'ultima A morire Quindi ci creiamo Fino Poi magari Noi italiani Sotto questo profilo Siamo meno Campanellisti Degli altri Per esempio Dei francesi Che magari Assegnano Le wildcard A formazioni francesi Giustamente Giustamente Non sempre accade Noi come italiani Abbiamo invitato 3 italiani Quindi Quest'anno Magari c'è stata Inversione di tendenza Però gli anni passati Un po' meno Ma c'è Solo Hanno invitato Una squadra Straniera in più Quest'anno è stata La Gazprom L'anno scorso Se non ricordo La CCC Quindi bene o male Alle 3 italiane Sulla carta Vere professional Hanno avuto L'invito Hanno anche risposto In maniera positiva Perché poi magari C'è il rischio Di invitare Una squadra Hanno fatto il rischio E il rischio Gli ho dato Pienamente ragione Perché la Gazprom Credo che Alla fin fine Non ha rubato nulla Ha vinto una tappa Protagonista I team italiani invitati Sono stati Dispiace 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 Per un Gianni Savio Una squadra Uno come Savio Da 40 anni nel ciclismo 40 anni che fa squadra Non essere al Giro d'Italia Soprattutto con sponsor italiani Corridori italiani Però questa è la vita del ciclismo Può darsi che il prossimo anno Si potrebbero riscrivere Qualche regoletta Si potrebbero riscrivere Qualche regoletta Secondo te Ma io Io non sono d'accordo Portare a 8 corridori Le squadre Perché non è facile Gestire Gestire Sono 3 settimane 21 tappe In genere Ma quest'anno è toccato a Savio E il prossimo anno Toccherà qualcun altro Mi dispiace per lui Altra breve pausa L'ultima breve pausa pubblicitaria Ci vediamo tra pochissimo Con Bello pedalare Bene L'ultima parte di Bello pedalare Torno da Antonio Per farci dire Per farvi conoscere Quali saranno i prossimi appuntamenti Della GM Europa Vini Allora Già nel fine settimana Ci sono due appuntamenti Per la squadra Io non partirò per questi Perché i miei prossimi appuntamenti Saranno Giro di Slovacchia E invece gli appuntamenti Di questo fine settimana Per la settimana Sono due corse 1.1 In Francia Dove la squadra Le comunicazioni della squadra Sono state fatte appena Proprio oggi E i corridori che parteciperanno Sono in sette Ti vogliamo dire Sai Chi sono? Sono Filippo Fortin Davide Parchiardo Ivan Balichin Matteo Rotondi Jose Marquez Federico Burchio Federico Borella Senti Antonio Visto che hai citato Questi sette Mi viene in mente Questo spagnolo Marquez Che tipo è? Devo dirlo Sotto il livello sportivo Sotto il livello Umano anche Sotto il livello umano È un ragazzo Davvero Straordinario Perché sembra molto solare Sembra con il sorriso Poi un ottimo compagno Di camera Di tutto Sotto il livello sportivo Adesso comincia Da far vedere I primi risultati Domenica Nella crono scalata Un sesto posto In Polonia Un minuto e mezzo Dal primo Della CCC E Niente Comunque È un ottimo corridore Tra l'altro È l'unico Corridore Di Bizz Ovviamente Di Bizz Il primo corridore Professionista Credo che L'anno prossimo Potrebbe essercene un altro Da quello che abbiamo captato Questo non lo so Non lo so Rispondere a questo Va bene Non lo scopriamo troppo Pierpaolo Di cosa vogliamo Parlare Allora Hai detto Hai ricordato Che probabilmente I campionati italiani Quest'anno Non sono stati ancora fissati Potrebbero saltare Quindi Al momento Non ci sono Penso che Se c'era in programma Era Dove già uscire Però Poi se Il CT Valentini Deve fare Magari A qualche dubbio Ancora Delle scelte Come In base A quali gare Potrà farlo Ci sono altre gare Io credo Che Ho già Tutto chiaro Io credo Che il CT Valentini Ha già tutto chiaro Anche prima Delle gare Di Coppa del Monde Perché comunque Visionare il percorso Ha già dato Una prima selezione Giustamente Sicuramente Se c'era Un percorso Prettamente pianeggiante Sapevo già Di non essere Della spedizione Con un percorso Così Il discorso È cambiato Usiamo sempre Condizionare Sarebbe la tua Prima Olimpiade No Sarebbe La seconda La seconda Quindi Insomma È già Probabilmente Anche esperienza Sufficiente Per Poter Mettere dentro La squadra Quindi Ma io Se sarò Lì Cos'è Perché Diciamo sempre Perché C'è il condizionale Il doppio Quando non ci sono liste ufficiali Però Ho sicuramente Avrò sicuramente Un lavoro importante Perché Corre con me È un ragazzo Veramente forte Che Con una spalla giusta Può Può dire la sua Anche in un percorso Del genere Perché L'ha già dimostrato E quindi La speranza È di andare lì Proprio Per cercare Di Trovare Il risultato Più importante Con lui Mi metterò Sicuramente A disposizione Perché Conoscendo gli avversari Certo che Poi dopo La gara Può assumere Tutto un altro Aspetto Però comunque Conoscendo gli avversari Su un percorso Del genere Ci sono Due tre Elementi Che sono Veramente Forti Però Lui Può essere Anche Della Diciamo Della battaglia Naturalmente Deve avere Un buon supporto Come è successo Anche a Pechino Dove abbiamo Centrato La medaglia d'oro C'è stato Un grande lavoro Alle spalle Prima abbiamo ricordato Per Paolo Che in Belgio C'è stato Il terzo posto Nel tandem Di uno dei due Fratelli Pizzi Ivano O Ivano E l'altro fratello Corre anche O ha smesso No Non so Sinceramente Non era in questa Ispezione Non era in questa Ispezione Ho capito Tra l'altro Io ricordo Che nello stagio Che nel raduno Che c'è stato A Franca Vidal Mare C'era anche Un altro Corrido Un altro Atleta Abruzzese Si Farroni Fabio Farroni No Dico Anche un altro Ricordo No Un altro Abruzzese Farroni Fa parte Integrale Di questa Nazionale Perché è stato Portato anche In Belgio No No Non c'era In Belgio Lui ha fatto Due ritiri E poi Vabbè Lì ha fatto Sono stati i ritiri Più volte a fare Un po' di selezione Quest'anno Lui è giovane Credo Ancora magari Si è un po' impegnato Con lo studio Quindi ancora Esatto Però Un po' di strada Se ne avrà voglia Qualcosa Però comunque Già Guadagnato Questa prestigiosa Convocazione Per raduno Perfetto Torno da Alessandro Volevo chiederti Alessandro Dal punto di vista Proprio Tuo professionale Questa esperienza Nuova All'estero Te l'aspettavi così La pensavi In maniera diversa Come è andata Un bilancio Un mini bilancio Devo dire Devo dire Sono Contento Non mi posso lamentare Della mia scelta Sicuramente Rifare altre cento volte Quindi Da quel lato Non ci sono problemi Ho imparato Una nuova lingua Quindi Nuove mentalità Perché non è facile Avere corridori Tedeschi Svizzeri Soprattutto tedeschi No Come il lingua Il tedesco Quindi Inglese Ah l'inglese Siamo in inglese Beh Il tedesco ovviamente Tutti i giri d'Italia Che hai fatto Comunque Un po' di inglese Dovevi anche Conoscere Cioè Sicuramente Però quando sei corridore È diverso Da corridore E qui devi fare Devi fare tanto Perché io non faccio Solo Il direttore sportivo Io da un anno Da quando L'anno scorso Ho preso la decisione Di andare in questa squadra Ho avuto parecchie conoscenze Parecchie sponsorizzazioni Che parecchie persone Che mi appoggiano Quindi Che credono in te Quindi è una cosa Sentirsi Insomma In qualche modo Stimato Apprezzato È una spinta Sì aziende Abruzzesi Che aziende Del nord Grandi nomi Quindi io Vado avanti sempre Per la mia strada Al mio carattere Questo Forse sei stato facilitato Dal fatto che Tanti anni Da corridore Da serio corridore Ti abbia Qualche modo Io ho preso Dato una sorta Di patente Di affidabilità E di credibilità Io ancora tutt'oggi Se vado In un giro d'Italia Tante persone Mi vogliono bene Tra parentesi Come si dice Quindi non ho mai fatto Del male a nessuno Se sei stata una persona Corretta E ripeto Dall'anno scorso Quando ho deciso Di fare questo Questo salto Non faccio solo il DS Pian piano Sto cercando Di ricavarmi Il mio spazio Ho le spalle Abbastanza forti Quindi Come ho fatto prima Il gregario Per una vita Che non è facile Anche se A tanti Può sembrare Una cosa Facilissima Io Pian piano Mi sto Adeguando Anche a quest'altra Parte del mondo Che non è facile Un giorno Ti piacerebbe tornare Comunque in Abruzzo Magari a dirigere Una squadra Tutta abruzzese Con uno sponsor Abruzzese Ma io ne ho tanti Abruzzese A giorni Me ne arriverà Un altro Abbastanza grande Quindi Possiamo dirlo No Non possiamo ancora Ma tu parli di sponsor Io parlo di sponsor Sì E altri Corridori abruzzesi Che potrebbero Prodare In Svizzera In questa squadra Nella Roth Group Ci sono Al momento Non c'è nessuno Dico la sincera verità Poi non so Se da qui A fine anno Arriverà Qualcos'altro Non so Se io resterò Ecco Questo ti volevo chiedere Perché ci sono stato Un po' In Svizzera Purtroppo Un'occasione migliore Un altro Pian piano Posso dire Posso dire anche questo Ci hai detto Abbastanza Penso che Le nostre ricerche Difficilmente arriverete Va bene Va bene Molto criptico sei Comunque va bene Ma in questo mondo Bisogna essere In questa maniera Io Ripeto Sto cercando di fare Qualcosa Perfetto Dall'8 al 12 giugno Poi dalla Slovacchia Ci trasferiremo Subito in Serbia Fare il giro Della Serbia E poi Questi due appuntamenti Mi serviranno In preparazione Del camionale italiano Che si terrà Il 26 giugno Il 26 giugno Dove si terrà? Adesso non ricordo Brescia A Brescia Senti ma Fino a questo momento Quante corse Hai fatto Tu personalmente Proprio In Italia Ho fatto Costa degli Etruschi Appennino Poi che cosa Che ho fatto Tutta non me la ricordo Coppie Bartoli No Poi comunque Sei soddisfatto Comunque Perché poi pure Chiaramente Non tutti Possono partecipare A tutte le cose Così Il mio programma di corse L'ho sviluppato Con il mio preparatore Perché Dall'inizio stagione Ho deciso Di entrare in forma Nel periodo più caldo Della stagione Cioè da giugno Fino a settembre Perché Il punto È il periodo Dove io riesco Proprio A esprimermi meglio Senti Da corridore Proprio L'arrivo Di roberto damiani Questo Direttore sportivo Che è un nome importante Direttore sportivo Team manager E team manager Cosa ha portato? Sicuramente ha portato Tanta serenità In gruppo In squadra Ha portato Anche Un pizzico Di professionalità Un grande pizzico Di professionalità Infatti Già si sono visti I suoi frutti Poi Io noto Che Roberto Anche nelle riunioni Ci trasmette Quella tranquillità Per affrontare Anche una cosa importante La dice in maniera Molto pacata Lui ci sa Trasmettere tranquillità Ci sa dare Sempre i giusti consigli Al momento giusto Credo che Insomma Tu lo conosci bene Roberto Damiani Lo conosco dal 96 Quindi confermi un po' Le parole Che sta dicendo O vuoi aggiungere qualcosa No no Confermo quello che dice Antonio Grande tecnico Grande persona Gli auguro Di riuscire a fare Quello che Vogliono fare Che hai in mente di fare Che hai in mente di fare Perfetto Grazie anche a te Antonio In bocca al lupo Per il proseguo Della tua stagione Pier Paolo Ovviamente In bocca al lupo Per Intanto Per essere Nella famosa lista Del commissario tecnico Mario Valentini Per Per le paralimpiedi Di Rio Settembre Giusto? Metà settembre Fine settembre Dal 7 al 18 Dal 7 al 18 E poi Altri propositi Vuoi ringraziare qualcuno Siamo In fase finale Nella volata finale Di Bello Pedalaro Ma io Ripeto Una cosa che mi piace molto E Buttarmi così Nel ciclismo giovanile Adesso credo che Per fine anno Non riuscirò più A organizzare Qualc'altra gara Però spero Dal prossimo anno Di fare proprio Un piccolo programma Per Per questa attività Perché comunque Mi dà molte Molte soddisfazioni Per il resto Devo dire che L'Abruzzo Per l'ennesima volta Si è dimostrato Una Una regione Dove La nazionale Fa piacere venire Perché considerando Che Quante volte È venuta La nazionale Paralipica In Abruzzo Ultimamente Tre volte È dal 2008 Che viene il ritiro Estivo Per preparare Gli appuntamenti Quindi è saltato Solo un anno Nel 2009 Perché avevamo il mondiale In Italia Su al nord Quindi abbiamo fatto Ritiro anche lì Se no dal 2008 Ogni anno Abbiamo spostato località Fino al 2012 Era Roccaraso Adesso è Rovere Vicino Rocca di Mezzo Però comunque La regione è gettonata Questa cosa è un motivo D'orgoglio Perché nel mese di agosto Poi c'è Mario Valentini Che è probabilmente Innamorato Lui dice che Questa è la regione Più bella d'Italia Perché c'hai il mare E a 50 km C'hai la montagna Ci sono le colline Noi lo ripetiamo spesso Ma è davvero così Non è che Diciamo Non c'è una regione Sinceramente Che ti dà questa possibilità Perché comunque In 50-60 km Arrivi anche a 1700-1800 metri Dal mare Quindi Non è E poi comunque C'è anche delle C'è una zona collinare Molto importante Anche per gli allenamenti E tutto Si mangia bene Il clima è ottimo Cioè abbiamo tutto E quindi questa cosa È bella Perfetto Grazie Pierpaolo Adesi In bocca al lupo Naturalmente per tutto In bocca al lupo Anche ad Antonio Di Sante Naturalmente Che si possono avverare Tutti i sogni Anche di Alessandro Spezialetti Come direttore sportivo E anche come manager Di qualche grande team Se non ci saranno Ci sarà altra cosa Innanzitutto Volevo anche io Ringraziare I miei sponsor Soprattutto abruzzesi Florideo Panaccio Della Cam Ercole Liberato Scioli della Tecnomeccanica Sud Fassa Bortolo Non dico dal proprietario Proprio dal boss Paolo Fassa Però Elisa Una ragazza A cui ho avuto Modo di fare il tutto E tutti gli altri sponsor Che sono con me Grazie Alessandro Io chiudo Ricordando un paio di risultati Che ci arrivano Dal mondo degli allievi E degli juniors Allievi Domenica scorsa C'è stata la gara A Castiglione Messer Raimondo La 26esima edizione Della Castiglione Castiglione Ha vinto il laziale Francesco Parravano Primo degli abruzzesi Mattia Di Pancrazio Della Gulp Val Vibrata Dovremmo anche vedere Una fotografia Dell'arrivo vittorioso Di Francesco Parravano Di questa gara Di Castiglione Organizzata Ormai è una gara Entrata a far parte Stabilmente Del calendario abruzzese 26esima edizione Della Castiglione Castiglione Questo per quel che riguarda Gli allievi Altra gara juniors Fuori regione Perché è stata Fatta In provincia di Bari Sempre domenica scorsa Ecco qui L'arrivo vittorioso Tornando alla gara Degli allievi Di Castiglione Di Francesco Parravano Dicevo Domenica scorsa Gara juniors 66esima edizione Della Coppa Maria Santissima Della Stella Vittoria del Campano Luigia Campora Secondo posto Per Giuseppe Fanigliulo Della Vini Fantini Nippo Freebike Quarto Francesco Petrini Della Sante Gidiese Stipa Vini Biagi Questo per quel che riguarda I risultati più importanti Del weekend scorso E' davvero tutto Bello pedalare Tornerà come di consueto Mercoledì prossimo Sempre nel solito orario Risentirci Buonasera da tutti Buonasera da tutti Sento più chilometri alle spalle Sento da fare L'uomo Lo soffrendo Il tempo Il tempo Batte per noi Non c'è più Chi perde o vince Quando il tempo Non vuole Quando la scarada Sale Non ti volta Sai Che ci sarò Valide L'uomo Attra R Grazie a tutti.